Parliamo di emergenza, un argomento spinoso perché anche nell'emergenza c'è il problema della carenza dei medici, ma se in alcune parti la carenza dei medici è magari sopperibile nell'emergenza c'è una specificità grandiosa perché è una tutela grossa? Assolutamente sì, io partirei prima dalla definizione del mezzo di soccorso avanzato, per noi come emergenza sanitaria territoriale della FIMG il mezzo di soccorso avanzato è un mezzo con le tre figure professionali che sono adesso attualmente impiegate nell'emergenza, c'è il medico dell'emergenza territoriale, l'infermiere dell'emergenza e l'autista soccorritore perché riteniamo essenziale che ci siano tutte e tre le figure? Perché queste tre figure si completano a Vicenta per dare un servizio di qualità superiore al cittadino e noi dobbiamo preoccuparci di quello che è il servizio che diamo al cittadino e che in una situazione di emergenza percepita o reale ha la necessità di avere un servizio quanto più tecnico e professionale possibile, per cui le tre figure sono essenziali. Questa specificità differisce il medico dell'emergenza da altre figure perché deve in condizioni critiche, delle volte anche di violenza, salvare la vita in condizioni delle volte altamente critiche. Esatto, anche noi come settore dell'emergenza insieme con gli altri settori della FIM ci abbiamo firmato un protocollo di sensibilizzazione per quanto riguarda la violenza sugli operatori. Protocollo firmato con la Croce Rossa Internazionale che ha lanciato una campagna di sensibilizzazione contro la violenza degli operatori. La campagna si chiama Io non sono un bersaglio. Perché abbiamo sottoscritto questo protocollo? Perché al di là dell'appartenenza al corpo sanitario noi come settore siamo oggetto di numerose violenze, tant'è vero che in alcune zone d'Italia la frequenza ha raggiunto percentuali altissime, tali da compromettere l'intervento. Perché noi, essendo medici dell'emergenza, abbiamo necessità di agire in secondi, prendere decisioni che possono essere salvavita. E se non abbiamo la serenità di stare tranquilli e di essere oggetto di violenza, io credo che venga compromessa prima di tutto l'intervento sul paziente, che è il primo a rimetterci. Al di là della violenza sull'operatore, chi ci rimette è sostanzialmente del paziente. I casi di violenza sono quasi all'ordine del giorno, oramai lo vediamo, però voi siete esposti di più perché arrivate nelle condizioni più estreme al paziente e quindi per questo serve una professionalità diversa, quindi una formazione diversa degli operatori che fanno questo lavoro? Assolutamente sì, tant'è vero che la prima eccezione che ci fanno nella definizione che è dato prima del mezzo di soccorso avanzato, cioè quello con il medico, l'infermiere, l'autista soccorritore e la carenza di medici. Però col sistema attuale è una carenza reale perché chi deve fare emergenza deve fare prima il corso di abilitazione, il corso di formazione in medicina generale. Dopo aver sostenuto il corso di formazione in medicina generale deve fare un ulteriore corso di abilitazione. Noi come FIMG che cosa proponiamo? Che chi deve fare emergenza, l'importante è che faccia un corso serio di abilitazione all'emergenza per poter esercitare il lavoro nell'emergenza sanitaria territoriale. Questo che cosa comporterebbe? Comporterebbe un aumento di sostenibilità del sistema, cioè quindi nuova forza lavoro e soprattutto sarebbe una risposta ai tanti colleghi che si trovano fuori dall'attività lavorativa, dalla possibilità lavorativa, i cosiddetti colleghi senza futuro, cioè quelli che sono alla fine dell'imbuto formativo e che non hanno la possibilità né di entrare nel corso di specializzazione né nel corso di formazione. Noi daremmo a questi colleghi la possibilità di fare con un corso di abilitazione serio, perché chi fa emergenza deve fare un corso serio, per accedere a un posto di lavoro e daremmo la possibilità alle regioni di dare risposta ai loro cittadini mettendo sul mezzo di soccorso avanzato i medici formati per fare l'emergenza. In molte regioni d'Italia stanno cercando di sostituire la figura del medico con la sostituzione dell'infermiere con ambulanze non medicalizzate. Questo è un sistema per risparmiare, una necessità oppure sono le regioni proprio che vogliono non attivare questo servizio bypassando completamente la figura del medico? Allora io credo che questo sia determinato da due fattori, uno legato alla carenza di medici e noi la soluzione ce l'abbiamo per dare risposta a questa carenza di medici e poi legato a modelli organizzativi che purtroppo ogni regione si struttura secondo il suo modello. noi ribadiamo, ribadisco ancora una volta sia come settore che come firmice nazionale per noi il mezzo di soccorso avanzato per dare un soccorso di qualità tecnicamente elevato è il mezzo con medico, infermiere ed autista soccorritore, nessuno escluso.